Mi dà la mia chiave, per favore. Mi ci vogliono cinque minuti, cerca di non farlo salire. Grazie. Ma come cazzo scrivono? Buono, buono! Ehi, lei, ma cosa fa? C'è una valigia mia qui. Ma chi è? C'è una valigia mia, la devo riprendere. Via! Rilasci! Rilasci! Ma quale valigia, se ne vale? Attenti, attenti a quella valigia! C'è una polizia! Attenti, c'è una bomba in quella valigia! Stoppate! 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 Iscriviti! Grazie.